Allora, l'idea mia dice, puoi dirmi se è da considerare l'astrologia vedica o altro tipo? Vedica forse sarà veridica. E se no perché? Che i segni zodiacali sono una storiella che ci hanno raccontato? Già l'hai detto. C'è chi studiando l'astrologia deduce gli eventi catastrofici? Siano con essa predetti? È possibile? E sulle predizioni che danni con la numerologia? Cosa c'è di vero? Grazie. Tutte le cose illogiche e irrazionali non sono vere. Tanto semplici. Semplicissimo. Sono tutte cose illogiche e irrazionali. Nessun scienziato ritiene che ci sia un nesso logico razionale. E se proprio nessuno, nessuno del mondo della scienza ritiene che ci sia un senso logico razionale, un motivo ci sarà. anche perché sappiamo che questi profeti vendoli, questi venditori di profezie, il mondo è pieno, il mondo è pieno di maghi, maghetti, stupide ginette che non servono a niente, però servono a loro perché ci beccano i soldini. Magari vanno alla cartomante e dici, no, no, non accetto soldi, non accetto. E tu però glieli lasci, dici, ah ma non c'era bisogno, capito? E se beccassi 50 euro? E voglio dire, è facile sparaducare sciocchezze e beccassi 50 euro, che dici? Sarà facile? Cioè per dire, per arrotondare, per arrotondare. È per questo che è sempre esistente questa cosa, eh? Addirittura nell'antichità, nel medioevo, anche prima, prima di fare una guerra, si consultavano gli astri, i profeti, le budella degli uccelli, i poveri uccelletti che ammazzavano, buttavano giù, apriva le budella, leggeva e guardava, no, sì, sì, è favorevole all'attacco. Le predizioni, il budella degli uccelletti, i poverini, gli uccelletti, insomma, ma raga, poi certo questi erano quelli dei re, quelli che, capito? Allora a un certo momento dicevamo, tu mi avevi detto che avremmo vinto, che c'entro io, poi è successa questa cosa astrologicamente, perché purtroppo astrologicamente Marte nel leone, Marte sì, è un momento in cui puoi attaccare però con una certa prudenza, tu non sei stato prudente, a scusa c'è sta sempre, come quando vai dal prete e dici ma come, ma io ho pregato, ho fatto l'offerta, però mi rimangono sempre gli stessi problemi, il prete ti dà la pacchetta qua e ti dice, eh caro mio, bisogna avere tanta fede, forse tu non ce l'hai avuta, e che in parte, come si dice? Quindi, tornando a noi, finché c'è gente che guadagna un sacco, ma un sacco, ma un sacco, ma un sacco di soldi, con religioni, superstizioni, oroscopi e predizioni, ovviamente sto fenomeno non si fermerà mai, ma da chi dipende? dai fessi, chiedo scusa, dagli ingenui che si rivolgono a questi qua che non ne sanno proprio niente di quello che succederà, ma se sapessero quello che succederà, ma perché non vincono alla schedina? Se sanno tutto quello che succederà, ma perché non vincono alla schedina? Perché non vincono alla schedina? Perché se prevedono così bene tutto non si fanno una bella schedina e la smettono di rompere le scatole alla povera gente, infinocchiando alla povera gente? Vabbè, comunque grazie della riflessione. Scusate, ogni tanto a me mi viene da dire delle... Allora... 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 Allora, 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 sono tante cose... Qualche sezione che dice, grazie mille maestro per questa riflessione molto toccante, per piacere continui a ricordarci ciò che siamo davvero, sì sì, con molto piacere perché... E noi siamo dei, cioè non è conventato io, lo diceva già Gesù che siamo dei, quindi insomma motivo c'è, in base al mio studio spiego perché... Ok... Quindi... Grazie Morizio, se faremo un video sulla teoria della terra piana... Ne ho già fatto qualcuno, magari vorrei farne uno un pochino più scientifico... Magari se capita lo faccio, vediamo un po', comunque già ne ho fatti vari... E poi... E poi... Tringali Salvo dice, sì, i frullati servono solo a confondere e non a farci convergere nella consapevolezza... Sì, è la consapevolezza che abbiamo bisogno... In realtà si gioca molto sul farci fare dei frullati, capito? È perché... E ho detto, a me mi sta molto simpatico Sibaldi, ma non è che... Perché mi sta simpatico io prendo delle cose da Sibaldi e le incastono a forza nella mia teoria, cioè non faccio i frullati, cioè non è che io... Io prendo un po' di, che ne so, un po' di Malanga, un po' di Sibaldi, un po' di Garia, un po' che ne so, mischio tutto e faccio la teoria... La teoria non è così che funziona, eh? Non funziona così... Io ripeto, io la teoria l'ho fatta partendo dalla base della base della base della base, sviluppando i ragionamenti a partire dalla base, quindi a una struttura propria, asettica, senza influenze, senza condizionamenti, che... Non dico che gli altri non abbiano intuito qualcosa di giusto qua e là... Ma io non faccio nessun frullato. Nella mia teoria non si può aggiungere nessun pezzo, la mia teoria è completa per se stessa. Chi l'ha studiata lo sa, e chi l'ha studiata seriamente... E che ve devo fare? Un paio di nomi? Mi dispiacerebbe fare solo un paio di nomi perché ci sono più persone che l'hanno studiata seriamente la mia teoria. Capito? Sarai ingiusto con gli altri. Ma ci sono persone che l'hanno studiata talmente seriamente che... Che sanno perfettamente che la mia teoria è completa per se stessa, non ha bisogno di appiccicarci. Capito? Che te posso dire... È come se tu prendi il Davide di Michelangelo, poi ci appiccichi il naso qua che non c'entra un cavolo. Capito? Capito? È... Voglio dire... Chi conosce la mia teoria lo sa. Chi conosce per esempio la teoria di Malanga sa pure dove è sbagliata. Per chi conosce la mia e sa dove è sbagliata. Per esempio Malanga, non per parlare di Malanga con tutto il rispetto per carità, ma lui non ha la più pallida idea che esistano i nanorobot alieni. Ma come puoi parlare di alieni? Se tu non sai la tecnologia più importante che loro possiedono, ma come puoi? Che spiega tutti i fenomeni che ha studiato Malanga e che Malanga purtroppo non ha capito. Gli esseri incorporei. Capito? E tantissime altre cose che Malanga non ha capito. Perché le possessioni, l'alieno, tutte queste cose che dice lui... Ragazzi, se tu capisci la mia teoria, capisci esattamente dove ha sbagliato Malanga. Ok? E così tu con tutti gli altri. Se capisci la mia teoria, capisci dove ha sbagliato Caria. Se capisci la mia teoria, capisci dove ha sbagliato Simbaldi. Se capisci la mia teoria, capisci dove hanno sbagliato tutti. Capisci pure dove hanno sbagliato le religioni. Lo capisci? Se tu conosci la mia teoria, capisci pure dove hanno sbagliato le religioni. Do hanno sbagliato tutti gli studiosi. perché la mia teoria spiega tutto ma no perché l'ho fatta io ma che me ne frega a me ma io mica voglio sentirmi di bravo a me che mi dicono bravo non me ne frega niente mi fa piacere quando qualcuno dice ah sai quello che hai spiegato mi ha aiutato tantissimo a sentirmi meglio ad avere meno problemi psicologici a capire meglio l'esistenza ad essere più in armonia con la vita con tutto qua molto piacere non è che io tiro l'acqua al mio mulino perché io non devo vendere niente che me ne frega a me cioè capito adesso la gente ha capito che la mia teoria è quella giusta adesso ci avrò l'aumento delle vendite e del mio cofanetto DVD ma di che è tutto gratis qua vedo tutto gratis ma che me ne frega io voglio solo un mondo migliore la mia ricompensa non è sentire dire bravo la mia ricompensa ricompensa è avere un mondo migliore e io con voi già ce l'ho un mondo migliore certo vorrei che che questo mondo migliore fosse condiviso con più persone possibili magari anche dove adesso c'è la guerra se sapessero ste cose che spiego io non ci sarebbe per niente la guerra non ci sarebbero neanche religioni dove regna il fanatismo ci sarebbe una comprensione dell'esistenza ci sarebbe un modo molto più umano più bello e più costruttivo di vedere le cose di vedere tutte le cose capito? a me non me ne frega niente di aver trovato la teoria giusta sono felice sono stato fortunato qui c'è Marco che dice surga non è il dio dei surga mi è stato rivelato il nome esatto e che ti devo dire io ti ringrazio per averlo detto ma io preferisco chiamarlo surun perché il nome che gli ho dato io però l'importante è capire che esiste e com'è quindi ti ringrazio e poi c'è Xioi che dice sì maestro sarebbe molto interessante sapere perché secondo lei la terra non è pianta comunque riuscirebbe a fare un riassunto generale della sua teoria dato che sono nuovo qui grazie carissimo e devo dire che ammiro sempre di più ti apprezzo sempre di più sì potrei provare a fare un video della mia teoria però la mia teoria non è facilmente riassumibile in un unico video mi piacerebbe farlo posso provare posso provare ci ho provato tante volte non sono mai riuscito a spiegare tutto in un unico video però vorrei consigliare scusami perdonami se mi permetto sì puoi fare domande a me per carità ma c'è un gruppo di insegnanti di superismo che è sempre disponibile tutti i giorni a rispondere domande magari sotto magari sotto metterò il link perché io magari ci impiego parecchio prima di rispondere perché come vengono fatte tante domande a me come io devo fare i video come sono un po' incasinato con delle cose che ho spiegato allora magari questo gruppo di insegnanti che sono molto preparati sono bravissimi non è che stanno lì per hobby stanno lì nel senso che sentono il bisogno morale di divulgare delle cose importanti nel modo giusto quindi sono molto preparati quindi queste domande le fai a loro sicuramente saranno felicissimi super felici di poter risponderle quindi magari metto sotto il video metto un link dove tu e tutti quanti potrete contattare questi insegnanti meravigliosi che avendo compreso l'importanza di queste spiegazioni loro se ne fanno portavoci e con grande maestria riescono a spiegare tutto in una maniera impeccabile quindi ringrazio immensamente loro e ringrazio anche perché esattamente come me non si fanno pagare per spiegare queste cose quindi rispecchiando il più puro spirito di condivisione quindi io ringrazio immensamente per questa domanda e ringrazio anche perché mi ha dato la possibilità di ricordare che esistono questi nostri amici sempre disposti ben disposti a rispondere a tutte le domande quindi grazie un grandissimo abbraccio poi qui Loredana dice lo dico e non fa male no agli Elohim sia al talat grazie grazie finalmente qualcuno si è ricordato che dobbiamo che dobbiamo risaltare il fatto che non vogliamo interferenze alieni e dobbiamo dirlo a tutto spiano attraverso tutti i media perché questo potrebbe aiutarci tantissimo a uscire da questa situazione orribile nella quale loro gli alieni ci hanno messo e purtroppo non tutti hanno capito che è andata così poi qui abbiamo Tommasa Anastasio che dice esiste un corpo eterico fatto di pura energia possiamo solo ipotizzare fare affidamento nelle nostre capacità a volte li vediamo in sogno ci consiglia e ci guidano è anche vero che non possiamo ricordare tutto abbiamo la capacità della percezione captare segnali e interpretarli secondo come li percepiamo i miei ricordi sono frammentari non delimitati tutto arriva con i tempi prestabiliti io saluto la nostra carissima amica Tommasa Anastasio e come io ho parlato vorrei non rispondere a a quanto dice la nostra carissima amica perché credo che il contenuto di quello che ho detto in questo video già abbia in sé delle risposte e perché vorrei non darvi tutto a papà fatta perché sennò dov'è l'esercizio di riflessione ma lasciare che siate voi a riflettere su questo e magari che siate voi a parlare con la nostra carissima amica spiegando le vostre opinioni e io non sto dicendo che ha ragione o torto la nostra amica io sto dicendo riflettiamo su quello che ha detto ok saluto con grandissimo affetto la nostra carissima amica Tommasa Anastasio e con ciò saluto anche voi e questo video credo che lo frammenterò in varie parti perché mi sembra che abbiamo raggiunto quasi un'ora e un'ora insomma è lunghetta quindi magari lo dividerò in due tre parti per non renderlo troppo pesante ecco comunque si tratta sempre di risposta alle vostre domande adesso io pubblicherò quindi le troverete le vostre domande pubblicate ripeto quando voi scrivete una domanda un commento qualunque e non lo vedete subito pubblicato è perché io l'ho trattenuto tra quelli che devo ancora esaminare perché così come ho fatto adesso me li trovo tutti uno in fila all'altro e ho più facilità nel rispondere perché altrimenti me li troverei in una sfilza di cose tra i commenti pubblicati e non mi rimarrebbe molto chiaro a chi rispondere a chi non rispondere insomma lo faccio per cercare di semplificarmi un po' le cose ok diamo da sempre per sempre ma questo già lo sapete grazie grazie grazie